Questo è l'accoppiatore, l'accoppiatore serve per accoppiarsi, questo qui è A8, in pratica il nostro amico qui di fronte ha delle possibilità sessuali non indifferenti, o ce ne ha per otto piccoli, oppure una sola particolarmente smandrappata, ecco vedete qui la testata particolare, se lei si sta fermo gliela faccio vedere, ecco questa è la testata particolare che permette accoppiamenti sessuali galattici, questa invece è la testata per la prima volta, questa è da sfondamento, notare per la prima volta la cappella, c'ha l'imparatura perché tante volte non dovesse andare uno, poi se andiamo su cose particolari ci sono queste qua, c'è un otto bulloni, cioè il problema è far entrare questa, poi questa qua entra da solo una volta che è entrata questa, ho capito, prego, vorrei notare l'altezza del coso, lei è un mostro,